Chi è lei? Si tratta di Jane. E perché non me l'hai detto subito? Lei sta bene, ma c'è questo ragazzo, Enriquez. È un nuovo caso, un'accusa di omicidio. E avevo chiesto a Jane se qualcuno del suo studio potesse rappresentarlo. Indovino, si è offerta lei. Credimi, ho provato a fermarla. Mi ha fatto giurare di non chiamarti, ma è una cosa molto più grande di lei. Axel, qualche... vuole farle abbandonare il caso. Non è ferita però, vero? No, sta bene. Ma questi fanno sul serio. Ok, prendo il primo volo e vengo lì. E, Billy, grazie per aver chiamato. Mi dispiace di averla coinvolta, Axel.